Cari amici, guardiamo insieme la situazione medio della nostra zona. La perturbazione proveniente dell'Atlantico, che ha portato piogge e freddo in questi ultimi giorni, continuerà ad insistere sulla nostra provincia, riservandoci nelle prossime ore un tempo perturbato con nuvole e qualche residuo di pioggia. I venti soffieranno da nord-nord-ovest, portando un'aria gelita, mantenendo le temperature durante il giorno ad un massimo di 10 gradi, fino a toccare durante la notte gli 0 gradi. I mari risulteranno molto mosso il Tirreno e mosso lo Ionio. Nella giornata di venerdì 17 febbraio, nonostante si prospetti una giornata con tempo sereno, i venti da nord non permetteranno comunque un innalzamento delle temperature. Pertanto le colonnine di Mercurio non supereranno i 9 gradi di giorno e di 3 gradi durante la notte, fino a punte di 0 gradi in alcune parti della nostra provincia. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-ovest con intensità di 24 km orari, con possibili raffiche fino a 40 km orari. I mari saranno molto mosso il Tirreno, mosso o poco mosso lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.